Amici di FanoTV, buonasera, ben ritrovati sulle nostre frequenze, sul nostro canale per quello che è un appuntamento sportivo calcistico, nello specifico molto atteso, soprattutto qua in città parliamo della finalissima, della terza edizione del torneo CSI Summer Calcio a 11, uno dei tanti eventi inseriti nel richissimo palinsesto CSI on the beach. Fano estate 2015, siamo come è successo anche nelle altre due edizioni all'impianto sportivo Vittorio del Curto, quartiere Vallato, ovviamente di Fano. Si affronteranno le due squadre che sono arrivate a questo appuntamento della finalissima rispettando di fatto il pronostico Valentini o Lorenzo e Funebri, da una parte in maglia nera che potete vedere alla sinistra dei vostri e teleschermi, mentre invece in maglia blu stasera per motivi di visibilità con casacca gialla invece la squadra della stazione IP Fenile. Mentre vediamo che le due formazioni si stanno scambiando i saluti di rito, vi veniamo subito a leggere quelle che sono le rose innanzitutto, poi le formazioni le scopriremo in base alla scelta delle due panchine. Iniziamo dalla squadra in maglia nera, Valentini e Noranze e Funebri, numero 8 Erwin Tomassoli, 22 Palazzi Andrea, 21 Serafini, 10 Berloni, 3 Antoniozzi, 6 Fontemaggi, 1 Dorpetti che è il portiere ovviamente, 4 Conti, 11 Galdenzi, 20 Cucchiarini, 9 Valentini, 2 Tallevi, 17 Erceci, 27 Nicola Urani, poi abbiamo un senza numero che è Filippo Alessandrini, 5 Vagnini e 7 Federico Montini. Poi vi ricorderò anche quelle che sono le regole e anche quelli che sono i tesserati appunto in base a queste regole. Tra pochissimi istanti vi darò anche la distinta, la lista del stazione IP Fenile, mentre intanto le due squadre stanno per dare il via all'incontro. agli ordini del signor Bevilacqua assistito dai guardalini signor Mariotti e Bonsignore. Mentre attendiamo di dare il via anche al nostro personalissimo cronometro scopriremo anche quelli che sono i moduli, scopriremo anche quelle che sono le formazioni scelte dalle due panchine in attesa naturalmente di leggervi anche quella che è la distinta della formazione stazione IP Fenile mentre la partita è cominciata in questi istanti. Dicevo, stazione IP Fenile invece oggi in casacca gialla che schiera Bartolini, Canestrari, Giacomoni, Carletti, Minardi, Grasso, Maggini, Sordoni, Divito, Pasquini, Ferruccio Rondina che è il portiere, Tomassini, Meio, Ordunselli, Alessandro Ricci capocannoniere di questa manifestazione ormai incontrastato salvo clamorosi episodi quest'oggi. E poi chiudiamo la distinta con Fabio Busca e Gianluca Sindaco. In panchina c'è anche Luca Faccioni che però non è in tenuta da gioco. Intanto scegliamo proprio Alessandro Ricci in questo momento che è uno dei cinque tesserati della formazione dell'IP Fenile. Gioca nella Val Metauro che appoggia per me l'altro tesserato, Alessandro May, capitano storico del Cucurano che apre per il suo compagno di reparto Maggini che da quest'anno ha intrapreso la carriera d'allenatore allenando in terza categoria la formazione del Monbaroccio. Quest'anno invece si trasferirà all'Isola di Fano. Intanto c'è un contrasto falloso al centro del campo ravvisato dall'arbitro Bevi l'acqua. Punizione per onoranze funebri Valentini. Anzi no, la punizione invece per l'IP Fenile. C'è sul punto di battuta Carletti che alla fine invece lascerà a Dordonselli. Diamo un'occhiata anche a quelli che sono i moduli. Ci sembra di vedere una difesa a 4, sicuramente difesa a 4 per la formazione del Valentini onoranze funebri. Difesa a 4 anche per la formazione avversaria, quindi la stazione IP Fenile. Questo lungo lancio di Maggini a cercare il movimento di Ricci che controlla di petto solo per un attimo. Poi c'è un retropassaggio e con calma la formazione di Maglia Nera può ripartire con il numero 22 Andrea Palazzi. L'apertura sinistra per Arceci, il disimpegno che viene intercettato dalla mediana della formazione dell'IP Fenile. Si riprenderà però con un calcio piazzato appunto in favore della squadra sempre in Maglia Nera. Prima ci siamo sbagliati, non era Arceci che ha qualche problemino fisico parte dalla panchina ma si trattava di Vagnini. Adesso vediamo Conti che smista per Palazzi. Palazzi che va al centro del campo da Berloni. Il passaggio è sbagliato, intercettato da Ordonselli. Allora Carletti che si divincola bene sul pressing di un avversario. Rientra sul destro, smista ad Ordonselli. Buon numero di Ordonselli su Cucchiarini. Palla che viene però intercettata da Berloni. E poi data a Talevi. Berloni e Talevi sono due ragazzi rispettivamente del 92 e del 90. Attenzione intanto a questo filtrante. C'è il fuorigioco. C'è il fuorigioco del numero 21 Serafini. Ex futura. Saverio Serafini pescato con questo bel filtrante ma in posizione di offside. Vi dicevo prima di Nicolo Berloni e Andrea Talevi. Due ex Real Metauro, tra l'altro anche molto promettenti, classe 92 Berloni e 90 Andrea Talevi. Che per vari motivi, diversi motivi hanno smesso di giocare. Adesso c'è il movimento di... C'è il lancio di Mei per il suo compagno di reparto, il suo terzino sinistro Marco Canestrari. Ci perdonerete qualche errore soprattutto per quel che riguarda la stazione Pifenile ma le casacche ci coprono i numeri. Quindi anche se più o meno i ragazzi li conosciamo tutti però può capitare anche qualche errore in questo senso. Adesso Conti che disimpegna in mezzo al campo. C'è un fallo su Serafini. Si riprenderà con un calcio di punizione. Diamo un occhiate ai tesserati. Per Valentino Ranze funebri i tesserati sono Erwin Tomassoli quest'anno in forza all'Atletico Alma. Poi abbiamo Mirko Cucchiarini del Cucurano. Andrea Valentini del Sant'Orso. Andrea Arceci sempre del Sant'Orso. Gianmarco Vagnini attenzione adesso a questa conclusione. Vagnini tra l'altro ex Real Metauro. La conclusione da fuori è stata tentata proprio da Arceci che invece è in campo nonostante il problema fisico. Quindi prima si vede che si era sganciato. Vagnini aveva preso la sinistra quindi noi un po' da lontano abbiamo confuso più che altro la capigliatura. Adesso questo anticipo di Ricci che però non va a buon fine. Ancora Vagnini che tocca per Talevi. Talevi che va a filtrante a trovare Serafini. Serafini che appoggia da Valentini. C'è però l'intercetto da parte di Meipo e bravo Carletti in mezzo al campo che restituisce palla al capitano del Cucurano che poi sbaglia. Pallone per Talevi che appoggia su Berloni fuori misura però di Vito può intercettare. Gli porta via la palla Andrea Valentini con un bel pressing da dietro. Serafini va a cercare ancora il movimento di Valentini questa volta la posizione regolare sull'auto di destra. Lo tiene lì canestrare Valentini da un'occhiata al centro. Troppetta in mezzo a questo pallone fermato con il petto da Ordonselli che poi va a cercare di trovare molto bene. Dici gran tocco di prima per Di Vito. Di Vito apre tutta a destra. Bella questa azione per Sordoni. Il capitano dell'ipifenile alza la testa e va a trovare Carletti. Carletti punta la profondità poi viene toccato forse da dietro l'arbitro però dice che si può proseguire. Allora c'è questa sventagliata di sinistro per Valentini che ferma il pallone con la mano forse perché credeva di essere in offside. Ha fermato il pallone con una sorta di bagger alto. Chiamiamolo così una ricezione pallavulistica ovviamente. Non c'è cartellino giallo. Regna il buon senso soprattutto in queste manifestazioni. Adesso c'è Sordoni che appoggia dietro a Maggini. Veniamo a guardare invece quelli che sono i tesserati della formazione stazione ipifenile. Sono Alessandro May del Cucurano, Tommaso Ordocelli della Valmetauro, così come Bomber Alessandro Ricci. Non c'è Gabbianelli questa sera. Poi c'è Fabio Busca attaccante del Real Metauro. Questo potrebbe essere stato per l'ex attaccante anche dell'Azzuragallo col Bordolo. Forse l'ultima stagione da tesserato FIGICI. Staremo a vedere di certo per lui. Le richieste non mancano. Adesso scegliamo questa stazione dell'ipifenile. che sull'out offensivo di destra va con Sordoni a cercare addirittura un tiro poi da lontanissimo con Di Vito. Rimane viva l'azione offensiva dell'ipifenile con questa rimessa laterale che Sordoni scarica su Di Vito. Maggini di destra capovolge in profondità senza però trovare un compagno che potesse rendere pericolosa l'azione. che però rimane con Pasquini nei piedi della squadra in casacca gialla. Ancora Pasquini che in trenare di rigore riesce a scaricare fuori ancora per questo traversone che viene ribattuto. E allora con calma, anche troppa forse, riesce a mettere giù la formazione delle onoranze funebri. Valentini intanto bella chiusura in due tempi di Mei. Carletti che in solitudine va a scaricare su Maggini. Sempre a 0-0 il punteggio di questa finalissima quando i minuti di gioco sono sette e mezzo ovviamente del primo tempo. Ordonselli di destra profonda a cercare il movimento di Ricci. Il pallone però arriva senza troppi problemi tra la ribaraccia di Mirko Dorpeti. Anche per lui l'ultima stagione in FIGICI, se la memoria non mi inganna, è stata da secondo portiere dell'allora Marchionni. Prima ovviamente che ci fosse la fusione col Cicogna che portò alla nascita dell'Atletico Alma. Adesso Ricci, stop di petto di Ricci. Poi Filtrante che trova soltanto l'uscita di Dorpeti che con il piede va profondo. Serafini, Mei lo ferma di testa, poi Conti. Ancora Mei di testa, ancora Conti. Questa volta preferisce mettere giù la palla di petto. Ragionacci su, non gli dè modo però di Vito. Allora ancora bella giocata di Carletti che aggira Conti. Torna da... Di Vito. Carletti. Ordonselli. Sulla destra richiama il movimento con un grande scatto Pasquini, però capisce tutta la retroguardia dell'onoranza funibri Valentini. Savero Serafini murato da Mei, finora impeccabile la prova del capitano dell'SD Cucurano, trionfatore del campionato di seconda categoria. Attenzione adesso a questo spunto, sempre di Serafini. Che però viene chiuso da un ripiegamento difensivo dell'epifenile. Talevi. Berloni. Ancora Talevi. Talevi riesce a mettere dentro questo percorso. Attenzione alla palla che filtra. Con poi il tentativo del limite schiacciato dal difesa, al contratto della difesa, ci è sembrato di Cucchiarini. Il tentativo di Mirko Cucchiarini è adesso un contrasto duro, fortuito sicuramente, ma molto duro. Rimane a terra. Arceci. Magari non aveva bisogno anche di questo colpo, considerando anche le sue precarie condizioni fisiche, ce l'ha manifestato anche prima dell'incontro. Invece stringe denti e resta in campo il difensore del Sant'Orso, tra l'altro ex Cucurano. Tra Cucurano e Sant'Orso sono tantissimi gli attuali giocatori, gli ex giocatori di una delle due formazioni, per non parlare poi anche di tutte le altre. Attenzione a questo spieguamento di Berloni sul secondo palo, un colpo di testa, la palla che termina tra le braccia di Ferruccio Rondina. Occasione pericolosa, forse la vera, prima al decimo minuto di gioco. Ricci adesso scarica su Carletti, che fa scorrere un po' troppo il pallone prima di rilanciare di sinistro. Buon per la Valentino Ranzefuni, perché guadagna una rimessa laterale, se ne incaricherà Tallevi. Tallevi, Palazzi, Vagnini e Ercece, la linea difensiva 4 dell'onoranza funebri Valentini. Attenzione adesso a questo calcione rimediato da Valentini, calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore. Mi sono fermato nella cronaca dell'azione precedente, perché subito dopo c'è stato questo pestone ricevuto da Valentini. Un'entrata con la pianta dei piedi da parte, ci sembra di Canestrari. E quindi ci sarà un calcio di punizione, ovviamente posizione pericolosa, non per cercare la battuta diretta, ma per cercare uno schema per una soluzione con un perutiro da fuori, oppure lo stacco di qualcuno. Vediamo adesso che vanno a saltare alcuni difensori della formazione in maglia nera, non Arcece e Vagnini che rimangono invece in marcatura su Fabio Busca, attaccante dell'ipifenile. Sul punto di battuta c'è il numero 10 Nicolo Berloni, di cui abbiamo parlato in precedenza. Uno dei migliori under dell'eccellenza qualche stagione fa, quando l'area Metauro disputò un campionato strepitoso da neopromossa. A parte il destro di Berloni sul secondo pallo, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta con tanto di tentativo di smanacciata da parte di Rondina, si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della stazione epifenile che per la seconda volta su questi pioventi da destra ha rischiato un po'. Ma il risultato non cambia, sempre 0-0 qua al vittorio del curto vallato di Fano per questa finalissima del terzo torneo CSI Summer Calcio a 11, organizzato dal CSI di Fano con la grande collaborazione dei due main sponsor BCC Fano e Bonbon Gelateria. Si ringrazia ovviamente per la collaborazione della società sportiva CSI Delfino Fano che ha in gestione questo impianto sportivo ormai stranoto in tutta la città. May. Studia il da farsi, vediamo se sceglierà il lancio lungo, invece preferisce appoggiare a Carletti che viene a prendere palla a tutto campo un po' il playmaker della formazione della stazione epifenile. Magini profondo, poi un controllo un po' difficoltoso da parte, c'è sembrato, di Sordogno, Sordogno e Pasquini. Magini, la sostanza non cambia, mentre la banda accompagna, non so se l'ha sentita in sottofondo, la nostra telecronaca. Torniamo in cronaca con Carletti che mette giù con calma per Magini, Magini, Ordonselli e ancora Magini. 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 Come in questo caso, barriera 2 per Dorpetti, l'arbitro Pevilacqua ci vuole parlare su perché riguarda la distanza, Capitan Valentini quindi insieme al suo compagno viene riportato alla giusta lunghezza, parte Ordonselli e un tiro cross sul secondo palo che va a cercare la testa di un suo compagno arrivato dalle retrovie. Ci sembra si trattasse di Magini e così infatti occasione per l'IP Fenile con Magini cercato da un calcio di punizione di Tommaso Ordonselli quando i minuti di gioco proprio in questo momento sono 15 al quarto d'ora, sempre 0-0 in questa finalissima del terzo torneo CSI Summer Calcio a 11, ricordiamo per gli amici di Fano TV che si fossero messi in contatto con noi soltanto adesso, che si stanno affrontando qua al vittorio del Curto del Vallato, le formazioni della Valentino Ranze Funebri contro la stazione IP Fenile. Rimessa laterale per quest'ultima, Arceci spinge e quindi calcio di punizione, fallo su Sordoni, calcio di punizione di cui si incaricherà Andrea Pasquini. Ribattuta la sua conclusione, allora si riprenderà con un'altra rimessa laterale, sempre Pasquini sul punto di battuta davanti alla panchina avversaria. Pallone che viene appionato da Arceci soltanto per un attimo, poi c'è un tentativo di percussione da parte di Busca, Busca che riesce a scaricare per Carletti, Carletti che va da Ordonselli. Bello filtrato di Ordonselli, gran palla, ottima la lettura di Vagnini, bella idea questa di Ordonselli a cercare il taglio di Sordoni. Adesso non riesce più a ripartire come gli era riuscito invece nei primi dieci minuti la formazione in maglia nera della Valentino Ranze Funebri. Ecco Capitano Valentini che viene a prendere palla addirittura nella propria tre quarti. È una sorta di 4-3-3 quella del Noranze Funebri Valentini con Valentini a destra, Savero Serafini che fa un po' il finto nueve, anche se un nueve a tutti gli effetti in questo caso. Attenzione a questo filtrante, adesso il pallone che scorre senza problemi tra le braccia di Dorpetti che apre per Tallevi, subito pressato da Carletti. Sventagliata, molto bella, molto precisa da parte a parte per quel che riguarda le onoranze Funebri Valentini. Attenzione adesso alla sponda di Savero Serafini e poi la conclusione da fuori area di Tomassoli. Erwin Tomassoli non riesce a centrare il bersaglio grosso. La porta difesa da Ferruccio Rodina che adesso si incarica di questo rinvio, sempre 0-0 quando ci avviamo alla prima metà della frazione, al primo quarto di partita. Rinvio impreciso, intercettato da Conti, Conti che però sbaglia a sua volta. Allora Carletti con calma, va da Canestrari, Tallevi intercetta di testa, Valentini ancora per Tallevi, Tallevi fitterante ancora per Valentini. Gioca molto sull'auto di destra la formazione in maglia nera, attenzione Conti, Conti che prova ad andare a ricercare Valentini. Lo trova di sinistro, di prima intenzione, Magini in due tempi, anzi in un tempo solo perché in realtà arriva poi Berloni. Anzi si tratta di Erwin Tomassoli che però sbaglia il tocco, allora ecco Busca, gran palla di Busca in questo caso per l'inserimento di un compagno che è di Vito. Di Vito ci pensa forse un po' troppo, il suo cross ribattuto finisce tra i piedi di Ricci, Ricci che invece commette fallo in attacco. Si riprenderà con un calcio di punizione, a nulla servono le proteste di Ricci, fallo su Arcece, autore di Ottima Diagonale. Beh certo che un torneo tra virgolette amatoriale con Busca e Ricci davanti, ecco perché c'è bisogno anche di diagonali intelligenti come quelle che un uomo di esperienza come Arcece ha fatto. Eccolo proprio Busca adesso che prova ad esplodere il destro, il pallone viene ribattuto da Vagnini, si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della formazione della stazione Pifenile che adesso sta prendendo coraggio, sta prendendo le misure alla formazione avversaria. che lo ripetiamo sta giocando con una sorta di 4-3-3 con Valentini Serafini e Erwin Tomasoli davanti, Erwin Tomasoli che nasce come terzino sinistro negli ultimi anni di FGC, cui lo abbiamo ammirato con le maglie soprattutto del Real Metauro e dell'Atletico Alma. Calcio d'angolo si incarica della battuta di Vito nel cuore dell'area di rigore, questo spiovente riesce a toccare quanto basta probabilmente Arceci, poi c'è una conclusione da fuori area che non crea alcun tipo di problema a Dorpetti, ci ha provato Capitan Daniele Sordoni. con il mancino Dorpetti profondo a cercare Tomasoli, Tomasoli che si difende dall'attacco di Pasquini, riesce a mantenere in campo un pallone non facile, poi va ad appoggiare a Mirko Cucchiarini, centrocampista di quantità del Cucurano, altro giocatore che ha vissuto una stagione magica con la grande vittoria l'ultima giornata, con tutti i brividi del mondo del Cucurano che è prontamente tornato in prima categoria. Il prossimo anno sarà allenata da un allenatore emergente quale Alessandro Antonazzo, figlio del più ben noto Antonazzo, ex allenatore della Vispesaro tra le altre. May non si fida del pressing di Serafini, allora va con i piedi da rondina, fallo di Erwin Tomasoli che spinge un po' su Pasquini. Calcio di punizione in favore della stazione Pifenile, dicevo il regolamento parla di tesseramenti, 5 tesserati FGC o di formazioni giovanili in campo, un massimo di 5 in campo, poi uno in panchina ne può avere anche altri, però l'importante è che in campo ci sia un massimo di questi 5 giocatori, gli altri che non sono tesserati comunque sono o ex freschissimi tesserati oppure giocatori che giocano il nostro calciotto, soprattutto quello del CSI, ormai molto molto in voga e di altissimo livello, quindi qui il livello è davvero al pari di una buona FGC, perché comunque sia ci sono tanti giocatori di spessore ancora di giovane età, adesso come testimonia questa grande azione da parte dell'onoranzio funibri Valentini con un'apertura di prima intenzione ed esterno di conti per lo scatto di Valentini, è stato bravo qua a rondina a leggere la situazione, uscire al limite della propria area di rigore ed evitare il peggio, questa verticalizzazione è nata tra l'altro da un bel fraseggio tutto di prima sulla tre quarti difensiva, gran bella azione questa. Adesso vediamo Rodosselli che va a cercare di trovare Busca, Busca si difende dall'attacco di mezza difesa avversaria, riesce a scaricare su Ricci, Ricci che va a destra da Sordoni, Sordoni cerca il cross di prima intenzione, così così attenzione l'uscita vuoto da parte di Dorpetti, il pallone arriva a sinistra dove c'è Canestrari che lo rimette in mezzo ma era uscito, il pallone è qui davvero scampato pericolo, Dorpetti chiede scusi ai compagni per questa uscita di pugno a vuoto che poteva costare cara perché sul secondo palo c'era appostato Canestrari che poi non è stato abbastanza lesto e reattivo nel o colpire o tenere quantomeno il campo pallone in modo da poterlo riproporre nel cuore dell'area di rigore in maniera pericolosa. Rimesso dal fondo quindi per le onoranze funibri Valentini, Ancora il mancino di Dorpetti, mentre intanto c'è un cambio nelle fila della stazione Pifenile, cambia al terzino sinistro, esce Canestrari ed entra Cristian Tomassini che tra l'altro proprio oggi compie 37 anni. E quindi gli facciamo gli auguri anche dal nostro emittente, attenzione adesso a questo filtrante, è buona la copertura di Magini che guadagna un calcio di punizione, è semplice, rimessa dal fondo, cambia poco comunque in quella posizione di campo. Senni carica ancora Ferruccio Rondina. Buono questa volta l'invio non troppo profondo che viene letteralmente tolto dalla testa di Valentini da Cucchiarini, allora può ripartire il fraseggio della stazione IP Fenile con Ordonselli. Scambio di prima con Carletti, ancora Ordonselli che va profondo, viene incontro Busca. May, May con calma va a sinistra dal neo entrato. Tomassini, Tomassini che solo per un attimo viene incontrato da Montini, ancora Tomassini che chiede e cerca l'1-2, la palla poi arriva ad Alessandro Ricci. Il 29enne attaccante della Valmetano scarica su Rondosselli che pensa al tiro, invece effettua un lob per Busca, capisce tutto l'attenta difesa del Don Anze Funebri Valentini e poi Tallevi guadagna una rimessa laterale sul pressing di Ricci. Vagnini, tutta sinistra per Arceci. Arceci ha spazio per poter avanzare, lo fa infatti e poi di destro va a cercare il movimento di un compagno. Bel fraseggio questo. che però si chiude alle peggiori dei modi per le Oranze Funebri Valentini perché il filtrante del numero 6 Mattia Fontemaggi non ha trovato la corsa di Emanuele Galdenzi, numero 11, anche in questo caso sono stati effettuati dei cambi, mi sembra che sia uscito Erwin Tomassoli per fare posto a Galdenzi e mi sembra che sia uscito Conti nel cuore del centrocampo per lasciare il posto a Fontemaggi e così infatti. Rimessa laterale subito gettata alle ortiche, poi c'è il buon intercetto da parte di Ricci che viene fino alla propria metà campo a ricevere palla. la difende come stiera e guadagna un calcio di punizione a proprio favore. Quando i minuti di gioco qua al vittorio del curto sono 25 e il risultato è sempre di 0 a 0. C'è questo filtrante, Vagnini di testa una prima volta, poi Fontemaggi e poi viene Berloni ad aprire a destra per Tallevi. Pressato dall'onipresente Ricci, Tallevi con calma. Si affida un suo compagno dell'elettroguardia, precisamente Palazzi, poi Berloni, ancora Tallevi, ancora bel fraseggio tra i due ex compagni di squadra. Berloni, Berloni che prova la sventagliata a cercare il movimento di Capitan Valentini. Anche in questo caso buona la lettura di Rondina. che esce fino al limite della propria area di rigore. Fa sua la sfera, Magina, adesso si avventura e rischia un po' troppo. Il pallone dopo un flipper finisce sui piedi di Valentini. Valentini riesce ad aprire a sinistra dove c'è il movimento di Galdenzi. Galdenzi che prova a rientrare. Il tocco è per Cucchiarini. Bravo Sordoni in questo caso a metterci il corpo e a rubargli palla. Va Sordoni, il tocco è per Busca. Attenzione Busca che parte, Busca, Busca. Resiste la carica di Fonte Maggi. Busca, ancora lui, rientra sul sinistro, Busca. Bello il tocco per Di Vito. Di Vito prova al destro, deviato con i pugni. Non si fida della presa Mirko Dorpetti. E fa la cosa giusta. Può ripartire però da lontano adesso la formazione in casacca gialla. Di Vito. Ordonselli avanza a pallapiede. Cerca un altro filtrante improvviso che viene però capito per la ritorna tra i piedi. Buon movimento di gamberdo. Selle ancora per Busca. Gran movimento di Busca. Busca che studia il da farsi. Non trova assistenza a destra. Allora va a cercare Ricci che riesce a girare tutto a destra. Dove però c'è la grande chiusura di Arceci. Buono il sombrero per liberarsi dall'avversario. Un po' meno invece il rinvio di destro. Lui che è invece un mancino naturale. Arceci che è stato impiegato quest'anno da Mister Latini nel Sant'Orso un po' in tutti i ruoli della difesa. Terzino sinistro centrale. Qualche volta anche terzino destro. Adesso ancora Ricci. Grande apertura. Ancora Arceci. Berloni capovolge di prima intenzione. Va a trovare Montini. Poi Fontemaggi si districa bene in mezzo al campo. Cerca il filtrante immediato per Gaudenzi. Ma la palla non arriva a destinazione per l'ottima lettura. Ancora una volta di Mei. Galdenzi che aveva fatto un bel movimento in questo caso cercando l'imbucata del compagno però. Le esperienze di me in questo caso si è fatta sentire. Adesso c'è questo lancio lungo. Il colpo di testa liberare da parte di Andrea Palazzi. Forse è una testata. Comunque c'è stato un contrasto. Rimane a terra un giocatore della stazione Pifenile. Ci sembra si tratti proprio di Alessandro Ricci che rimane a terra contuso. Crediamo e ovviamente speriamo nulla di grave. Infatti è così. Ecco che si rialza supportato dall'avversario Andrea Palazzi. Anche l'arbitro Bevilacqua va a sincerarsi delle condizioni di Ricci che può riprendere il gioco. Una botta al volto o probabilmente una gomitata o una testata nello scontro aereo precedente. Mentre intanto Di Vito parla un po' con i compagni di quello che bisognerebbe fare in fase di possesso con molta sportività nel mentre Berloni restituisce palla alla stazione Pifenile che adesso riparte con Maggini. L'esperto centrale difensivo porta palla solo per un attimo adesso invece la porta a suo collega di reparto sia Mei Tomassini. Ancora per Maggini Alla fine in questa prima mezz'ora di gioco clamorose occasioni non ce ne sono state grosse parate da parte dei portieri non ce ne sono state quindi partita abbastanza bloccata sotto questo punto di vista. Tomassini adesso prova ad andare sull'out di sinistra davanti a sé cerca e trova Busca Busca tenuto lì da Palazzi Busca sull'out di sinistra va di destra a cercare il movimento di Ricci Ricci a limite Ricci prova il tiro anche questa è una però telefonata per Dorpetti che non ha alcun problema non si trattava di Ricci bensì di Cristian Tomassini che ha provato un destro da fuori senza però impensierire in alcun modo la presa di Dorpetti adesso c'è la torre di Galdenzi la palla in qualche modo arriva a Berloni Berloni che la scarica su Valentini anzi Fontemaggi messo giù calcio di punizione in favore della Valentini Don Anze Funebri bisogna ripetere perché il punto di battuta non era corretto anche se era qualche metro indietro Fontemaggi cucchiarini sul pallone ecco il tocco per Berloni Berloni che viene toccato duro l'arbitro non fischia allora Carletti prova ad andare anzi immagini Carletti è uscito toccato duro in questo caso tutto regolare però e se il filtrante fosse stato un po' più preciso un po' più ampio ecco usiamo questo termine probabilmente ci sarebbe stata un'occasione pericolosa per la stazione epifenile che lo ripetiamo ancora ha un attacco super Alessandro Ricci tra l'altro del capo canoniere è praticamente in contrastato di questa edizione attenzione adesso a questo filtrante con Palazzi che chiude in corner dicevo in contrastato non tanto nei numeri sette gol lui sei gol invece Nicola Tanfani ma Nicola Tanfani con la sua formazione è stato eliminato Nicola Tanfani che giocava nella Tukitur e Bagni Arzilla sei gol per lui però ovviamente non essendo più in gioco non può più raggiungere Ricci attenzione a questo cross in mezzo ancora Arcecica lontana poi c'è Montini che va a recuperare palla il sandwich su Carletti che invece è in campo che invece è in campo porta un calcio di punizione proprio per la formazione del numero 8 in casacca gialla numero ovviamente nascosto dalla casacca stessa ancora Ordoncelli sul punto di battuta mentre c'è del movimento sulla panchina della Valentini di onoranze funebri ci sono addirittura tre cambi escono Arceci Cucchiarini e Valentini tra pochissimo vi diremo anche chi è entrato in campo sicuramente entrato in campo numero 3 Andrea Antoniozzi il numero 27 Nicola Urani e poi vedremo anche chi è l'altro neo entrato appunto di questa della formazione in maglia nera adesso seguiamo però quest'attacco ancora una volta di Stazioni Piferile poi lo ne ha messo in mezzo per Busca che non riesce a controllare e poi la sfera schizza tra i piedi di Dorpetti vi dicevo adesso facciamo un po' il punto della situazione per quel che riguarda il 4-3-3 di onoranze funebri Valentini che in questo momento ha Montini a destra Galdenzi centrale e il neo entrato se non vediamo male dalla nostra postazione è Antoniozzi che si è sistemato a sinistra in difesa invece c'è ancora c'è ancora Vagnini c'è ancora Palazzi c'è ancora Tallevi intenzione intanto a questa grande sponda da parte di Ricci per Busca Busca che poi viene contratto ancora una volta dalla retroguardia avversaria Tallevi riesce a tenere in campo un pallone non semplicissimo Urani Urani che si è sistemato in mezzo al campo il numero 27 in maglia nera Nicola Urani Vagnini Palazzi è entrato in campo Filippo Alessandrini ecco il terzo cambio Filippo Alessandrini che si è andato a sistemare nel suo ruolo naturale di terzino e sinistro intenzione adesso a Tallevi che viene tenuto per la maglia da Carletti in maniera anche abbastanza plateale Tallevi infatti chiede il giallo l'arbitro non è di questo avviso non è del tutto d'accordo Tallevi sta di fatto che comunque il minimo indispensabile l'ha ottenuto ossia un calcio di punizione siamo comunque lontani dalla porta difesa da Rondina chiede alla distanza Berloni allora ecco il solito conto dei passi il solito Nicolo Berloni sul punto di battuta due uomini in barriera Rodonselli e Di Vito per la stazione Epifenile parte Berloni destro a giro sul secondo palo anche questa volta nessuno tocca la palla che occupa che attraversa tutto lo specchio della porta praticamente anche se la posizione è stata battuta da una posizione tutto sommato abbastanza centrale nulla di fatto dunque ancora Rondina alla battuta di questo rinvio quando i minuti di gioco sono 34 nel nostro cronometro Valentini onoranze funebri 0 stazione Epifenile 0 in questa finalissima del terzo torneo CSI Summer Calcio a 11 organizzato dal CSI di Fano in collaborazione con i main sponsor BCC Fano Bombon Gelateria 8 squadre al via 2 gironi 2 gironi da 4 alla fase finale si sono qualificate le prime classificate di ogni girone che sono andate direttamente alle semifinali seconda e terza invece di ogni girone sono andate ai quarti di finale giocate con la classica modalità dell'incrocio quindi seconda contro terza terza contro seconda dei rispettivi gironi eliminate soltanto le quarte classificate dei vari gironi ricordiamo anche che Valentini onoranze funebri in semifinale ha eliminato Metal 4 e Ferramenta 2R mentre invece Stazioni Pifenile ha eliminato il Bardiux adesso c'è questo filtrante Magini pressato si libera in qualche modo del pallone ma solo per un attimo poi Galdenzi che è bravissimo a resistere alla carica di Ordonselli riesce a scaricare su Montini finta in area di Montini che si porta la palla sul sinistro riesce a scaricarla grande intervento di Magini che con tutta la sua esperienza riesce a chiudere una situazione che si stava facendo a dir poco complicata allora Alessandrini per Berloni ancora per Alessandrini chiuso in fallo laterale Berloni il tocco centrale attenzione a questo gran tiro da fuori il pallone che calciato da Nicola Urani Sibila anzi no era Fonte Maggi deviato addirittura non avevamo visto la deviazione della nostra postazione Sibila alla sinistra della porta difesa da Rondina per un calcio d'angolo in favore delle onoranze funebri Valentini Montini sul punto di battuta pallone messo in mezzo Tallevi ruba il tempo a tutti ma non riesce a impattare in maniera perfetta il pallone soltanto sfiorato dalla fronte dell'ex terzino della Real Metauro e quindi rimessa laterale in favore della stazione epifenile che adesso sta soffrendo un po' sta facendo fatica a ripartire si va a fasi e poi il solito fallo subito da Alessandro Ricci che lo ripeto è ormai capo canoniere di questa manifestazione potrebbe perdere questo titolo speciale tra l'altro vi ricordo che a fine gara avremo tutte le premiazioni del caso quindi vi invitiamo a rimanere con noi anche dopo il fischio finale soltanto se Andrea Valentini capitano dell'onoranza funebri Valentini segnasse una quaterna un poker appunto Ricci dovrebbe dividere addirittura questo premio quindi parliamo ovviamente quasi di fantascienza intanto c'è un fallo subito dal numero undici Galdenzi che prende posto nel cuore dell'area di rigore e lascia sul punto di battuta come sempre Berloni e lì per un destro come quello di Berloni potrebbe essere questa una situazione molto interessante per la formazione in maglia nera attenzione a Berloni che studia il piazzamento dei compagni fa partire questo interno destro il pallone ancora verso Tallevi bella la chiusura bella la chiusura in questo caso da parte di un difensore della stazione Pifenile tra l'altro era stata anche rilevata una posizione di offside da parte dell'assistente Mariotti probabilmente dello stesso Tallevi quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore della stazione Pifenile mentre la partita continua a non sbloccarsi siamo sempre fermi sullo 0 a 0 qua il vittorio del Curto Vallato di Fano per questa finalissima del terzo torneo CSI Summer calcio a 11 una manifestazione che ha riscosso un grande successo nelle edizioni del 2012 e del 2013 che è stata fermata lo scorso anno per motivi organizzativi anche per la presenza dei mondiali di calcio in Brasile e adesso invece rieccoci qua a pieno regime come sempre noi di Fano TV presenti in questo evento adesso intanto Berloni cerca una spizzata di testa che non trova nessun compagno e la palla inoffensiva arriva tra i piedi di Rondina che poi la distribuisce a sinistra per Tomassini troppo lungo il tocco di Tomassini per Nicola Giacomoni altro neo entrato nella formazione appunto della stazione epifenile questa volta si ci sembra che sia uscito Denis Carletti attenzione a questo filtrante Pasquini solo per un attimo la palla che termina sul destro di Galdenzi ribattuto nuovo calcio d'angolo per la formazione delle onoranze funibri valentini che adesso in questa seconda frazione di primo tempo si è dimostrata decisamente più pericolosa in questo caso la palla è caduta perfettamente sul destro di Galdenzi che ha trovato però un muro attenzione a questo corner pallone per Talevi questa volta il gol c'è e questo è il gol l'asse Berloni Talevi funziona alla terza volta non c'è due senza tre alla terza volta arriva il vantaggio della formazione delle onoranze funebri valentini quando siamo esattamente al quarantesimo minuto di questo primo tempo dunque cambia la partita il gol di Andrea Talevi ex terzino della Real Metauro classe 90 anche per lui tante stagioni da protagonista in promozione e in eccellenza poi per motivi di studio è invece terminata la sua esperienza calcistica studio che l'ha portato addirittura a Milano un minuto intanto di recupero ricordiamo sono due tempi da 40 quindi il gol è arrivato praticamente in zona Cesarini di questo primo tempo vedremo adesso quale sarà la reazione anche della squadra della stazione Epifenile che invece rispetto alla squadra avversaria schiera una sorta di 4-4-2 un po' più lineare con le due punte che sono ovviamente Ricci e Busca attenzione proprio quest'ultimo adesso che prova a difendersi dall'attacco di Palazzi bravo Palazzi a tenerlo lì e poi il filtrante di Ricci non trova nessun compagno pronto a ricevere sembra avere un po' accusato il colpo possiamo dire che sotto il punto di vista delle occasioni il gol magari non era nell'aria però sotto il punto di vista del possesso palla e delle potenziali occasioni create ci sentiamo di dire che questo è un risultato anche abbastanza meritato anche se va detto che comunque sia non è mai stato portato un serissimo pericolo alla porta di Ferruccio Rondi termina qua il primo tempo dunque stazioni Pifenile 0 onoranze funebri Valentini 1 la rete al quarantesimo quindi all'ultimo minuto del primo tempo da parte del terzino destro Andrea Tallevi su corner battuto da Niccolò Berloni ci sentiamo naturalmente tra pochi minuti per la ripresa delle operazioni e per il secondo tempo di questa finalissima del terzo torneo CSI Summer calcio a 11 qua dall'impianto sportivo Vittorio Del Curto Vallato di Fano a più tardi ben ritrovati amici di Fano TV proprio mentre prende il via in questo istante il secondo tempo di questa finalissima del torneo estivo del CSI di calcio a 11 che sta venendo di fronte onoranze funibri Valentini che è in vantaggio per 1-0 sulla stazione Pifenile grazie alla rete e proprio allo scadere del primo tempo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Berloni siglata da Andrea Tallevi squadre che rientrano in campo con qualche cambio ricordiamo che a differenza del calcio a 11 FGC qua invece i cambi sono assolutamente liberi come anche giusto come anche giusto che sia vediamo adesso questa rimessa laterale battuta dalla formazione delle onoranze funibri Valentini che provano subito a partire a manetta per mettere magari anche ghiaccio il risultato Serafini che è rientrato in campo dopo aver iniziato la partita da titolare viene anticipata adesso Pasquini Pasquini per Ordonselli Ordonselli di prima attenzione per Busca Busca che si difende subisce fallo calcio di punizione in favore della formazione dell'ipifenile che ha la maglia blu ma oggi con casacca gialla cosa che ci sta creando un po' di difficoltà nel riconoscere i numeri però alla fine tutto procede per il meglio anche sotto questo punto di vista in questa splendida serata tra l'altro un po' freschile più primaverile che stiva diciamo sotto il punto di vista della temperatura qua al Vallato adesso vediamo che c'è Serafini che prova a tenere in campo il pallone invece finisce per calciarlo in malo modo oltre l'out della propria difesa sinistra allora rimessa laterale di cui si incaricherà Pasquini adesso proveremo anche a dare un'occhiata a quelle che sono le formazioni che sono in campo in questo momento magari quando c'è un momento un po' più spento del match vediamo adesso questo filtrante per Giacomoni Giacomoni che difende il pallone in mezzo a due uomini che sono Serafini e Alessandrini quest'ultimo lo chiude in fallo laterale Giacomoni lascia l'incarico Pasquini che andrà a cercare probabilmente una rimessa lunga anche la rincorsa fa intendere questo vediamo Pasquini se andrà a cercare i centimetri di qualche suo compagno invece uno schieba al limite dell'area dove c'è l'attentata battuta al volo di Alessandro Ricci fallo di mano però dello stesso Ricci quindi ci sarà un calcio di punizione in favore delle onoranze funibri valentini per un attimo in diretta abbiamo ottenuto addirittura ci fosse stato il tocco di mano di un difessore non è così invece adesso Alessandrini scambia con Vagnini ancora Alessandrini va da Severini Severini che trova Fonte Maggi gran palla di Fonte Maggi ancora per Severini che dovrebbe riuscire a mantenere la sfera in campo sull'auto di sinistra Severini l'alto corto della re di rigore punti in mezzo a due Severini riesce a entrare Severini riscarta tutti Severini e c'è un attraversa clamorosa da parte dell'ex attaccante del futuro poi ci prova Conti il pallone sfila sul fondo grande occasione da parte di Severini imbeccato da un grandissimo filtrante di Fonte Maggi si è presentato è entrato in area di rigore dal lato corto sinistro una serie di finte si è spalancato la porta per la conclusione ha colpito una traversa piena clamorosa occasione dunque per il raddoppio per le onoranze funibri Valentini che a questo punto stanno anche legittimando il vantaggio intanto segnaliamo nella formazione della stazione Pifenile l'ingresso di Luca Grasso con il numero 14 nascosto ovviamente dalla solita casacca Luca Grasso che è proprio qua sotto la nostra postazione sull'out di destra in questo momento sembra quasi un 4-3-1-2 con Ricci a supporto proprio di Grasso e Busca quindi forse è cambiato qualcosa anche tatticamente nella formazione della stazione IP Fenile lo ricordiamo capitanata Danielia Sordone adesso attenzione Ricci che viene messo giù il limite dall'area calcio di punizione fallo di Palazzi contatto di cartellino giallo e Palazzi è il primo ammonito della gara Andrea Palazzi questo fallo su Ricci sicuramente fallo non cattivo più tattico che cattivo Ricci nel mentre aveva anche scaricato la sfera dunque calcio di punizione da posizione molto molto interessante anche perché i battitori non mancano vediamo che sulla sfera abbastanza interessato sembra esserci Di Vito poi c'è anche Ordonselli c'è lo stesso Busca c'è ovviamente Alessandro Ricci un po' più dietro c'è Giacomoni però crediamo che sarà uno tra Ordonselli e Di Vito ad incaricarsi della battuta calcio di punizione dunque guadagnato da Alessandro Ricci sicuramente uno dei migliori dei suoi in questi primi 50 minuti scarsi di gioco 45 anzi minuti scarsi di gioco ecco il fisco dell'arbitro parte Ordonselli a girare la barriera Ordonselli il pallone che termina alto non di molto Ed Orpetti comunque sembrava essere sulla traiettoria quindi alla traversa clamorosa di Serafini di pochi istanti fa di Saverio Serafini abbiamo dobbiamo segnalare questo calcio di punizione invece calciato di poco alto da Tommaso Ordonselli centrocampista della Val Metauro in generale e della Stazione Epifenile invece nello specifico di questa serata di sport intanto nuovo cambio nelle fila delle onoranze funebri Valentini esce Filippo Alessandrini il suo posto da terzino sinistro viene preso da Erwin Tomassolli e sull'out di destra rientra Andrea Antognozzi quindi in questo momento la linea 4 delle onoranze funebri Valentini da destra a sinistra composta da Antognozzi Palazzi Vagnini Tomassolli a centrocampo agiscono Conti e Urani intenzione intanto adesso a questa a questa bella giocata ancora una volta da parte di Alessandro Ricci poi il panore termina tra i piedi di Conti Conti che prova ad andarsene torna su di lui con grande grinta proprio Grasso adesso Giacomoni Tomassolli fallo poi probabilmente invece l'arbitro non ravvisa nulla Giacomoni adesso qua ci sono un po' di proteste il tocco di Giacomoni per Busca che non arriva per un pelo a raccogliere un pallone interessante Grasso ancora dentro per il movimento di Ricci Ricci fermato in corner calcio d'angolo per la stazione Epifenile che adesso si sta scuotendo per cercare di raggiungere un pareggio dopo lo scampato pericolo della traversa di Serafini calcio d'angolo Giacomoni basso sul primo pallone il pallone che viene allontanato in maniera anche abbastanza minacciosa per la nostra postazione dalla retroguardia in maglia nera adesso Serra i tempi Serra le fila e forza i tempi la formazione della stazione Epifenile con Busca Busca che riesce al limite dell'area a toccare per Grasso il pallone che poi viene in qualche modo allontanato da Urani forcing totale adesso della stazione Epifenile Tomassini con le mani dall'out di sinistra non trova un compagno alla fine riesce invece a trovare una bella intuizione poi c'è questo tiro da lontanissimo che Dorpetti fa suo in due tempi la conclusione è stata di Antonio Di Vito numero 10 dell'Epifenile Ordonselli pallone intercettato da Conti che apre tutta destra per Antoniozzi che da terzino sale fino alla metà campo avversario riesce a mettere un pallone in mezzo quasi a vuoto quasi a vuoto la retroguardia dell'Epifenile che però in qualche modo riesce a cavarsi allora Pasquini che adesso esce a palla il piede riscando anche qualcosina il pallone filtrante a cercare il movimento di Grasso capisce tutto però prima di lui Vagnini che appoggia su De Orpetti che arriva da Vagnini buon movimento di Tomas Soli velo per Serafini Serafini che non riesce a controllare la sfera se la trascina oltre la rimessa laterale intanto altra girandola di cambi per le onoranze funebri Valentini allora escono escono Montini Funtema anzi no esce Montini sicuramente esce anche Galdenzi ed esce Nicola Urani Ritorna in campo Andrea Arceci Ritorna in campo Mirko Cucchiarini Ritorna in campo anche Capitan Andrea Valentini per quella che adesso è molto simile a quella che è stata la formazione che la partita l'ha iniziata attenzione adesso a questo filtrante Palazzi che fa sportellate con Grasso l'arbitro non fischia nulla poi Cucchiarini di testa in qualche modo la palla rimane lì pericolosamente la lontana prima Vagnini poi Conti pressato da Di Vito riesce ad ad adarsene però Fontemaggi con questo filtrante viene fischiato un fallo proprio ai danni del numero 6 l'arbitro non concede il vantaggio visto che comunque sia Serafili si trovava in una situazione di 2-3 contro 1 e quindi può rifiatare la formazione in maglia nera con tutta la calma del mondo Vagnini va a battere Palla che danza sulla tre quarti offensiva e adesso viene raccolta da Antognossi di destra bella pennellata ancora per Serafini che prova un sombrero ai danni del proprio avversario ma finisce invece per trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo mentre il risultato è sempre di 1-0 in favore di onoranze funebri Valentini ringraziamo e ricordiamo la preziosissima collaborazione del CSI Delfino società sportiva che gestisce l'impianto Vittorio del Curto qua al Vallato che ovviamente è proprio per questo appunto la sua collaborazione è di fondamentale importanza oltre ai due main sponsor BCC di Fano e Bonbon Gelateria Lido di Fano adesso un passaggio per Ricci che non riesce a controllare rimessa laterale in favore dell'onoranze funebri Valentini se ne incaricherà Arcece entrato da pochissimi minuti a riprendersi il suo posto di terzino sinistro il tocco è per Serafini che riesce a girare a Conti Conti che apre tutta destra per Antoniozzi Fonte Maggi attenzione al limite il tocco per Conti altro grande intervento di May ecco May uno sicuramente dei migliori in campo per quel che riguarda la sua formazione del Traricci dall'altra parte segnaliamo indubbiamente Tallevi che in questo momento è seduto in panchina autore del gol bene anche Serafini molto molto vivace in un ruolo anche magari non suo cioè quello di di primissima punta ecco calcio di punizione intanto per la stazione IP Fenile mentre ci sono ci sembra di vedere dei cambi esce il numero tre Cristian Tomasini e adesso nel ruolo di terzino sinistro vi faremo sapere torna ad operare Canestrari come ad inizio partita quindi questi sono mai i cambi in panchina in questo momento ci sono Carletti ed altri oltre naturalmente a Tomasini è uscito anche Giacomoni Ordonselli sul punto di battuta smista a sinistra dove c'è Divito Divito punta il proprio avversario che gli contrae il rinvio si trattava di Valentini il pallone però arriva al limite dove c'è Ricci Ricci in mezza due mezza tre e riesce comunque a scaricare molto bene un pallone per Gianluca Sindaco che lo pennella a destra per l'inserimento di Pasquini che però non riesce a tenere il pallone in campo bella palla di Gianluca Sindaco anche lui ex Sant'Orso Real Gimarra Vispesaro Lucrezia ai tempi classe 1987 Gianluca Sindaco che va a stazionarsi in mezzo al campo in un 4-3-1-2 con Ricci alle spalle di Busca e Grasso intanto questo rinvio un po' sviricolato da parte di Dorpetti riesce Thomas Soli con un colpo di tacco a tenere il pallone in campo soltanto momentaneamente Thomas Soli che adesso agisce nel tridente invece dell'onoranza e funibri Valentini Serafini in mezzo Valentini a destra Thomas Soli a sinistra nel 4-3-3 appunto disegnato dalla formazione di Maglianera attenzione adesso May che riesce ad allontanare Fallo che è abbastanza netto di Arceci su Sindaco e nuovo calcio di punizione intanto Thomas Soli sta con la Magini poi c'è il tocco di Vito di Vito per Ordonselli che si districa bene in una situazione non facile il filtrante attenzione adesso per questo scatto da parte di Grasso che trova però l'uscita puntuale di Dorpetti dunque riesce a difendersi abbastanza bene da questa alzata di ritmo della formazione avversaria l'onoranza di Valentini che si tiene stretto il vantaggio l'1-0 segnato da Andrea Tallevi al quarantesimo minuto l'ultimo del primo tempo attenzione Valentini pallone dentro per Serafini Serafini in mezzo a due Serafini di sinistro il pallone viene contratto termina sull'out di sinistra dove Arceci lo mette giù riesce a toccare per Cucchiarini Cucchiarini di prima per il movimento di Tomasoli che vede ancora di prima Arceci non buono però il suo traversore rimessa laterale ancora per il difensore del Sant'Orso maglia numero 17 in fallo laterale pallone che viene allontanato a vuoto Vagnini può favorire lo scatto di grasso però è bravo a metterci in a pezza Palazzi Palazzi che tra l'altro dopo qualche stagione di inattività quest'anno tornerà a giocare e lo farà nel Real Gimar ambiziosa squadra di seconda categoria che quest'anno sta facendo veramente le cose in grande come testimonia tra l'altro l'acquisto di Andrea Battisti talentuoso attaccante ex Marchionni Gabice e Junior nonché Marignanese e quindi Andrea Palazzi si rimette in gioco e questo sicuramente è un buon test comunque di certo gli avversari davanti non gli mancano perché comunque sia marcare giocatori del calibro di Ricci e Busca ti riporta un po' in quello che era il tuo mondo nel mondo in cui hai deciso di tornare e tra l'altro se la sta cavando molto bene senza essere oltretutto mai uscito dal terreno di gioco al pari del suo compagno di reparto Vagnini in tanti minuti di gioco sono 15 quindi 25 al termine più ovviamente recupero in questa finalissima che stiamo seguendo finalissima che sta anche adesso decollando sotto il punto di vista dei ritmi dei tempi delle giocate anche perché no sicuramente una bella finale intanto ancora la donnazio funebre i valentini che provano a venire in avanti c'è la chiusura però di Rondusselli nella propria area di rigore intanto tra qualche protesta ci sarà si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'IP Fenile con Arceci che protesta vementemente nei confronti dell'arbitro non è troppo d'accordo con questa decisione il terzino del Sant'Orso Grasso adesso ci mette tutta la sua fisicità non ci cade però Andrea Tellevi che nel mentre è entrato nel terreno di gioco Conti allora filtrante subito smorzato dalla schiena di un avversario Magini in qualche modo riesce a domesticare il pallone a giocarlo per un compagno di squadra che però viene anticipato da Conti e poi Magini che va a fare pressing a tutto campo e qui c'è il fallo di Magini su Andrea Valentini questa volta la sua esperienza non è servita ad evitare che gli venisse fischiato contro un calcio di punizione dunque calcio di punizione in favore delle onoranze funebri della stazione ip delle onoranze funebri Valentini per questo fallo della stazione ipifenile serpentina di Tallevi attenzione ancora Tallevi trenare a calcio di rigore calcio di rigore per questo intervento su Andrea Tallevi che aveva un attimo perso la palla poi se l'è ritrovata lì in una triangolazione fortuita è stato steso non abbiamo visto da chi nella confusione in questa azione concitata e dunque ci sarà un calcio di rigore si incaricherà di questo calcio piazzato manco a dirlo Niccolò Berloni che ha praticamente battuto tutti i calci piazzati di questa serata Berloni contro Rondi da parte il tiro di destro il pallone imparabile all'incrocio dei pali 2-0 dunque la finale sta prendendo una fisionomia ben precisa perché a 20 minuti dalla fine poco più a questo punto un 2-0 firmato Berloni Tallevi Tallevi ha segnato l'1-0 su Assis di Berloni Berloni ha segnato il 2-0 su rigore su Assis su rigore procurato dallo stesso Tallevi quindi ecco che gli ex Real Metauro di cui abbiamo parlato anche in apertura di Telecronaca stanno lasciando il segno e come quindi da aggiornare il nostro tabellino siamo dunque sul 2-0 con la rete di Berloni su calcio di rigore segnata al diciottesimo della ripresa attenzione adesso a questa palla dentro per Serafini pescato in una dubbia posizione di offside qualche protesta calcio di punizione per l'ipifenile che adesso deve a tutti i costi accelerare i tempi lo sa benissimo Magini che infatti batte immediatamente questa punizione la palla però torna a rondina adesso sarà fondamentale per le onoranze funebri Valentini organizzarsi tatticamente per reggere a quelli che saranno 20 minuti di prevedibile assedio da parte della stazione ipifenile che già comunque aveva dato interessanti segnali di risveglio in questo secondo tempo adesso ecco Ricci che si ritrova sulla traiettoria di una sfera che probabilmente era da Ordonselli indirizzata a Grasso Ricci è riuscito a controllarla bene ha tirato di destra di prima intenzione la palla però è stata colpita col corpo un po' troppo indietro ed è terminata alta alla sinistra della porta difesa da Mirko Dorpetti rinvio profondo la spizzata per Valentini Mei copre la sfera dall'arrivo del suo ex compagno i due hanno giocato insieme a Cucurano due stagioni fa Ricci Filtrante di Ricci ancora per Busca Busca che mette giù molto bene il pallone attenzione Busca Busca che butta l'area di rigore Busca 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 destro sinistro alla fine viene chiuso molto bene da un palazzi davvero impeccabile allora Cucchiarini può far ripartire i suoi con calma c'è questo Filtrante che non va a buon fine però tutto buono per respirare per le onoranze funebri Valentini che sono avanti 2-0 ricordiamo i gol al quarantesimo del primo tempo di Andrea Tallevi e al diciottesimo della ripresa di Nicolo Berloni su calcio di rigore concesso per un fallo proprio sullo stesso Andrea Tallevi Ordonselli playmaker arretrato della formazione in casacca gialla Pasquini Pasquini in mezzo a due riesce a guadagnare una rimessa laterale stretto nella morsa Arcecito Massoli Pasquini è riuscito a guadagnare il massimo da questa situazione ecco la rimessa laterale da parte di Pasquini Pasquini che va profondo a cercare il movimento di Busca forse fermato un po' con le maniere ruvide da contenzione Busca attraversa incredibile eccolo qua il grande attaccante che ha segnato valangate di gol in promozione che colpisce una grande traversa districandosi mezza tre uomini attenzione adesso contropiede situazione di contro uno fuori gioco e qua c'è stato l'errore qua c'è stato l'errore perché anche se le onoranze funebri Valentini protestano a me sembrava in posizione regolare invece Berloni da quest'altra parte qua sotto la nostra postazione mentre invece probabilmente Valentini era in posizione di offside poi magari voi da casa in tv avete visto le immagini in maniera più nitida e forse io sto dicendo una stupidaggine però secondo me era in posizione regolare l'uomo di sinistro sia Berloni non invece Valentini adesso si riparte allora scampato pericolo per la stazione l'ipifenile che prova a rimanere in avanti ma c'è il break da parte dell'onoranze funebri Valentini che adesso cercano con Serafini questa imbucata per Tomassoli deve uscire Rondina con i piedi sulla propria area di rigore a limite della propria area di rigore Conti con il petto a cercare profondo ancora Valentini altra uscita di Rondina Magini Ordoselli ancora Magini linea 4 adesso bloccata quella della formazione di Maglia Nera che ovviamente deve difendere il preziosissimo doppio vantaggio vi ricordiamo a fine gara le premiazioni Grasso prova l'imbucata c'è però Vagnini anche Vagnini in coppia con Palazzi è disputato davvero una grande partita adesso Valentini che prova a cercare Tomassoli sul secondo palo trova invece la chiusura di Magini ecco la partenza di Ricci attenzione Ricci che può andare tra le linee subito su Di Luco Chiarini Ricci Ricci prova a guadagnare spazio per il destro Ricci solito solite finte di corpo Ricci Ricci adesso c'è anche Conti su di lui arriva anche Arceci Ricci alla fine decide di scaricare su Pasquini che di prima cambia gioco molto bene c'è questa conclusione da lontano che invece Sibila da parte di Divito alla destra di un Dorpetti comunque in controllo della situazione altra occasione che se ne va per la stazione di Pfinile che adesso vede il tempo scorrere via veloce velocissimo verso il fischio finale di questa partita però ancora da giocare c'è e come perché è appena il ventiquattresimo quindi c'è più di un quarto d'ora più recupero adesso c'è questa uscita un po' avventurosa di Rondina protetto da Magini palla difficoltosa per Pasquini che riesce a cavarsela in una situazione complicata si riparte da Magini di Vito Magini profondo a cercare il movimento di Ricci capisce tutto Arceci poi Guccherini per Conti nel cuore del centro campo Conti apre molto bene per Valentini che cerca di riservire il rimorchio del suo compagno trova invece la chiusura della formazione avversaria adesso Cuccherini ball break il suo riesce a pennellare per Tomasoli Tomasoli attenzione c'è la palla sul mancino riesce a metterla in area la palla destinata a Valentini capisce tutto però ancora May che chiude molto bene poi Ordoselli di esterno a destra per Sindaco Sindaco prova a sfruttare la sua gamba riesce a difendersi da una difesa che comunque torna in maniera sempre molto molto attenta poi sbaglia l'apertura che carambola sulla schiena di Berloni che ora si ritrova il pallone di piedi Berloni d'esterno un filtrante che voleva essere per Valentini la palla non prende il giro verso destra che Berloni voleva e termina in occhio tra le braccia di Rondina Ricci Ordoselli parte Ordoselli parla il piede Ordoselli si difende dall'attacco di Conti che commette fallo calcio di punizione per la stazione ipifenile e c'è un time out c'è un time out chiesto dalla formazione della stazione ipifenile time out dunque di un minuto e poi si tornerà a giocare ovviamente in questo caso in minuti si arriverà al quarantunesimo per quel che riguarda il minutaggio regolare della situazione dunque 2 a 0 per Valentini in oloranze funebri che si sta avvicinando alla conquista di questo trofeo lo ricordiamo amici di Fano TV terzo torneo CSI Summer Calcio A11 organizzato dal CSI Fano inserito nel ricchissimo palizzo assistivo CSI on the beach Fano estate 2015 ringraziamento torneo iniziato il 3 giugno quasi 20 giorni di torneo 8 squadra al via 2 gironi da 4 preziosissimo lo sponsor della BCC di Fano e del bonbon gelateria preziosissima anche la collaborazione ovviamente della società sportiva CSI del Fano CSI del Fino Fano società che gestisce l'impianto Vittorio del Curto in sintetico da cui vi stiamo trasmettendo la telecronaca di questa vincente partita lo ricordiamo ancora 2 a 0 le reti di Tallevi ovviamente per onoranze funebri Valentini al quarantesimo del primo tempo e di Nicolo Oberloni su calcio di rigore al diciottesimo della ripresa per fallo commesso proprio su Tallevi dunque questo time out con un conciliabolo anche tra la terna arbitrale Dutro è sempre pronto per tornare in campo vediamo adesso se la stazione Epifenile si starà organizzando o starà architettando qualcosa di tatticamente nuovo per cercare di sfondare il muro ben organizzato della formazione in maglia nera che sta difendendo con grande esperienza con grande solidità e anche a volte con un po' di fortuna vede la traversa di Busca che comunque fa pari con quella colpita da Serafini un quarticello prima 2 a 0 dunque la partita riprende proprio in questo momento con un calcio di punizione in favore della stazione Epifenile per il fallo subito da Ordonselli un minuto fa sul pallone Cerici che sta guardando minacciosamente la porta ma siamo a 40 e passa metri di distanza dalla porta di Dorpetti ben 5 uomini in maglia gialla nell'area di rigore avversaria per cercare di sfruttare ogni qualsiasi tipo di situazione si potrà verificare da questo calcio di punizione che verrà battuto da Alessandro Ricci la rincorsa è corta quindi da quella distanza probabilmente cercherà una sventagliata in area di rigore e non la conclusione a rete ecco lo Ricci infatti è così il pallone sul secondo palo che viene allontanato dal solito colpo di testa di Arceci tenuto in campo da Talevi bravissimo Talevi qua a difendersi dall'entrata di Immagini che era andato a saltare che quindi in questo momento sta facendo un po' il centravanti come faceva Samuel nell'Inter di Murigno adesso Busca che si difende dalla carica di due giocatori guadagna un calcio di punizione il fallo per la precisione è stato commesso su di lui dal numero 20 Mirko Cucchiarini centro campizzare di Cucurano uno dei cinque tesserati gli altri sono Tomas Soli Andrea Valentini Andrea Arceci e Gianmarco Vagnini Sindaco questa volta sul punto di battuta vediamo se cercherà il cross o la conclusione pensiamo decisamente un cross è così sempre il secondo palo calcio d'angolo per l'intervento di Talevi che per non saperne leggere e scrivere si rifugia proprio in corner visto che alle sue spalle stava arrivando di gran carriera un avversario dunque calcio d'angolo in favore della stazione Epifenile che le sta provando tutte per cercare di reprire questa finale che la vede sotto per 2 a 0 divito sul pallone da un'occhiata al centro il fantasista dell'Epifenile pallone messo in mezzo colpo di testa si reclama per una strattonata e invece ci sarà semplice rimessa dal fondo si reclama per una strattonata su Alessandro Ricci che era andato a saltare braccato probabilmente un contatto c'è stato l'arbitro però dice nulla di fatto è rimessa dal fondo con Dorpetti che con tutta calma va a recuperare la sfera per poi rimetterla in gioco ovviamente non c'è fretta se ne accorge la stazione Epifenile che reclama un po' di fretta ecco rinvio sindaco di testa e poi di testa ci va anche Tomas Soli poi di petto mette ordine Berloni Cucchiarini Tomas Soli si arriva sull'out di sinistra va in sovrapposizione Valentini deve stare attento a non finire in offside riceve in posizione regolare il bello l'1-2 con Tomas Soli Tomas Soli che arriva sulla sfera dall'out di sinistra mette un cross basso all'indietro che viene intercettato soltanto per un attimo però perché ancora Valentini che va sulla sfera ha messo giù calcio di punizione per fallo di sindaco su Valentini e proteste della stazione Epifenile per questo calcio di punizione dunque calcio di punizione se ne incarica ovviamente Berloni nel cuore dell'area di rigore ci sono Montini sta arrivando Arceci su secondo palla attenzione sempre pericoloso c'è Nicola Urani al limite il pallone cercare proprio Arceci invece viene colpito di testa da Montini nulla di fatto anzi non era Montini era Galdenzi era Emanuele Galdenzi che appunto colpisce di testa direttamente fuori però rimessa dal fondo se ne incarica Rondina vi ricordiamo alla fine le premiazioni attenzione adesso a questo pallone messo dentro per il numero 11 Galdenzi tenuto lì con il fisico Damagini che favorisce l'uscita in presa bassa di Rondina allora sindaco Ordonselli anticipato da Cucchiarini ancora sindaco però che recupera la palla molto bene poi la perde per strada gliela porta via allora Galdenzi Valentini sull'out di sinistra adesso Galdenzi che è entrato al posto di Serafini agisce da Boa centrale con Montini a destra e Valentini a sinistra Erwin Tomasoli invece ripiegato sull'out di sinistra perché Arceci è andato a fare il centrale visto che è uscito Palazzi quindi in questo momento Tallevi a destra Arceci e Vagnini centrali e Erwin Tomasoli nel ruolo di Terzino sinistro d'altra parte ci sono parecchi giocatori duttili nella formazione di Maglianera che ci si può permettere di far rifiatare diverse persone di cambiare diversi assetti difensivi Ricci adesso gira a sinistra un pallone difficile che infatti non viene controllato da Di Vito suo compagno di squadra sventagliata lunga cercare attenzione Valentini chiude bene però Pasquini con la sua diagonale in questo momento è saltato anche quasi qualsiasi schema nella formazione della stazione Epifenile vediamo sicuramente Maggini come perno difensivo May che gli va molto molto avanti quasi una difesa a uno in fondo con un unico baluardo che appunto Maggini e poi tutti a cercare di prendere la metà campo avversaria attenzione Di Vito adesso calcio di punizione per il fallo di Nicolo Urani su di lui siamo ai 30 metri circa vediamo se un ottimo tiratore cercherà la la battuta intanto viene segnalato un cambio ci sembra pronto per entrare il capitano Sordoni nelle fila della stazione Epifenile gli lascia il posto il numero 15 Gianluca Sindaco che dunque esce dalla gara non troppi minuti per lui rientra in campo capitano Daniele Sordoni che invece ha iniziato la partita a ritolare nel primo tempo uscito poco oltre la metà frazione attenzione Di Vito che sta pensando al tiro in porta in questo caso ci sembra di capire che tenterà la conclusione attenzione parte il destro di Vito Alto nessun problema per Dorpetti anche questa occasione se ne va quando ormai bisognerà cominciare a fare il conto alla rovescia per vedere quanto manca alla fine di questa finale mancano esattamente 6 minuti più recupero quindi si fa sempre più salita alla strada della rimonta per la stazione Epifenile lo ricordiamo Noranze Funebri Valentini avanti per 2 a 0 grazie alle reti una per tempo di Tallevi e Nicolo Berloni adesso Erwin Tomassoli va da Valentini che smorza per Berloni attenzione perché adesso si aprono anche le strade le contropiede il filtrante di Berloni per Galdenzi preferisce accontentarsi di una rimessa laterale la formazione in maglia nera viene battuta Dermin Tomassoli da qualche minuto slittato al ruolo di terzino sinistro Cucchiarini ancora per Tomassoli e ormai sembra aver perso un po' di fiducia la squadra della stazione Epifenile Arceci riesce ad allontanare Berloni svirgola un po' ma in qualche modo la palla finisce seppur con un effetto impazzito da Montini Montini che poi in qualche modo la fa arrivare invece è da Andrea Tallevi Andrea Tallevi che si difende dall'attacco di due avversari riesce anche con grande mestiere a guadagnare un calcio di punizione che è oro colato calcio di punizione poi prova tutto male sventagliato in avanti da Divito respinto da Vagnini poi ancora un 1-2 troppo profondo questo passaggio per Busca e con calma Dorpetti può fare sua la sfera parte il rinvio di Dorpetti profondo a cercare Galdenzi la meglio su di lui però nel gioco aereomagini allora ci prova Urani sempre di testa poi pallone ancora un momento allontanato vediamo se qualcuno la metterà giù ci prova parzialmente di testa Tallevi che trova Montini Montini che va velocissimo sull'out di destra riesce a mettere in mezzo un pallone sul secondo palo che attraversa tutto lo specchio e non viene raccolto né da Galdenzi né da Valentini a traghiotto occasione per la rete che avrebbe definitivamente chiuso la gara per l'onoranza funebri Valentini Pasquini per l'epifenile uno degli ultimi tentativi per provare a riaprire un match che sembra ormai indirizzato Ricci contro Vagnini Ricci attenzione Vagnini però lo chiude con grande esperienza l'ex difensore della Vispesero e del Real Metauro attenzione adesso ancora Sordoni per Busca che perde l'attimo Busca poi riesce a infilarsi nell'area avversaria poi molto bene Arceci che riesce a chiudere un po' meno bene invece il suo rinvio sta di fatto che l'occasione pericolosa è stata risinescata adesso Busca subito triplicato Cucchiarini Cucchiarini e Arceci ancora buttano la palla in fallo laterale si incarica della rimessa Pasquini Erwin di testa riesce a sporcare terza rimessa laterale consecutiva nel giro di poco secondi per l'ipifenile se ne incarica Capitano Sordoni va profondo Sordoni ancora una volta la chiusura di Tommasoli Sordoni per questo forcing abbastanza fine a se stesso abbastanza sterile da parte dell'ipifenile che si è vero mantiene la palla si mantiene in zona d'attacco però adesso con questo calcio d'angolo vediamo se riuscirà a portare un'occasione pericolosa più concreta eccolo che parte dalla bandierina Ordonselli lunga per tutti allora riesce a prolungare di testa Galdenzi Montini prova ad andarsene rischiando anche qualcosa perché di fatto è entrato in corsa con un treno nella panchina della stazione epifenile rimessa laterale ancora per lo stesso team in casacca gialla intanto triplo cambio per le onoranze funebri Valentini escono lo stesso Valentini entrerà sicuramente Filippo Alessandrini intanto vediamo che escono Valentini Tomasoli e Galdenzi entrano Antoniozzi Alessandrini per dunque quello che è un assetto ancora più coperto ovviamente perché di fatto Alessandrini è un terzino infatti va a prendere il ruolo che ha lasciato sguarnito Tomasoli il ruolo di terzino sinistro Antoniozzi invece con grandi qualità di fisica e di corsa si va a posizionare proprio davanti a lui e adesso la palla danza in area di rigore Ricci anticipa Alessandrini che poi riesce a contrarlo Antoniozzi poi allontana spazza lontanissimo dove c'è lo scatto di Galdenzi grande chiusura da parte di Magini che riesce a tenere il campo e a prolungarlo poi Grasso contro Alessandrini Alessandrini riporta via il pallone Grasso Grasso riesce ad andare poi viene steso dall'intervento di Fonte Maggi che è un altro dei nuovi entrati calcio di punizione dunque in favore dell'Epifenile che ormai le prova tutte anche se il tempo ormai a sua disposizione è veramente poco perché siamo al trentanovesimo minuto quindi due più recupero considerando che c'è stato un time out al termine di questa finalissima parte Ordoncelli con il destro pallone come al solito su secondo pallo Ricci la sposta solo per un attimo una carambola impazzita c'è il gol del 2 a 1 attenzione adesso ci aspetta un gran finale di match probabilmente autogolo probabilmente una devazione fortuita forse di Pasquini sta di fatto che al trentanovesimo minuto di questa ripresa la partita venire aperta da questo calcio di punizione battuto tagliato da Ordoncelli nel cuore dell'area di rigore nulla ha potuto Dorpetti su questo su questa traiettoria un po' balorda del pallone che lo ha scavalcato infilandosi sul secondo pallo e adesso ovviamente visto che siamo sul 2 a 1 ci sarà un attacco all'arma bianca da parte della formazione della stazione ipifenile che si butterà tutta in avanti visto che inizierà il recupero tra pochissimi istanti immagini immagini va a profondo a cercare una spizzata che arriva per Busca chiude bene Tallevi in diagonale e poi Alessandrini che con il mancino va a spazzare il pallone che può tornare buono per Galdenzi immagini protegge l'uscita di Ierondina non benissimo coi piedi quindi rimessa laterale che è puro ossigeno in favore della formazione delle Valentine Valentini che con ovviamente grande calma va ad incaricarsi di questa battuta è Andrea Tallevi Tallevi che tocca per Galdenzi e la palla poi arriva a Rondina palla per Sordoni Sordoni studia il da farsi va a cercare uno scatto profondo trova però soltanto il sinistro di Alessandrini che allontana Ordonselli non è pressato può sventagliarinare un pallone che Arceci toglie a Ricci Ricci prova un tuffo per guadagnare una punizione addirittura qualcosa di più poi Busca limite dall'area di rigore il pallone schizza sull'auto di destra viene messo in mezzo liberato da Magnini adesso un momento di grande concitazione del match ancora Alessandrini che butta fuori la sfera fuori gioco però e quindi calcio di punizione in favore dell'onoranza Fulibri Valentini che a questo punto vedono avvicinarsi il successo attendiamo soltanto l'indicazione del recupero da parte dell'arbitro Vador Petti profondo con il con i piedi adesso è Sordoni Sordoni che resiste alla carica di Berloni Sordoni continua a sfondare Sordoni bella apertura a destra il pallone che viene tenuto in campo alla grande da Busca Busca una finta un'altra Busca prova ad entrare poi c'è Fonte Maggi che riesce ad allontanare su questo tentativo individuale da parte di Busca poi Corro Doncelli che mette il pallone in mezzo lo allontana Magnini nuova rimessa laterale in favore della stazione Epifenile se ne incarica Pasquini Ecco Pasquini che osserva la disposizione dei compagni preferisce andare da Sordoni Sordoni che soltanto per un attimo controlla il pallone che poi viene allontanato da Antoniozzi Montini non riesce a farlo suo forse ce la farà in seconda battuta e così infatti prova a buttarla sulla corsa ci riesce mette in mezzo subito la sfera al tiro di prima intenzione da parte di Galdezzi Rondina salva il risultato e mantiene accese le ultime speranze della formazione in casacca gialla grande spunto di Montini sull'auto di destra pallone messo di prima intenzione sulla corsa di Galdezzi che ha sparato a colpo sicuro bravissimo di piede Ferruccio Rondina ancora Montini Montini prova la giocata Montini riesce ad andare sull'auto di destra ancora a mettere in mezzo prova di inserirsi il numero 3 Antoniozzi che però commette fallo in attacco quindi calcio di punizione e 3 minuti di recupero da questo momento dunque ultimissime speranze per la stazione più finile che adesso si riporta tutta in avanti attenzione a questa palla buttata in mezzo allontanata da Vagnini poi ancora un colpo di testa da parte di Tomassini questa volta ma c'è lo spunto di Fonte Maggi attenzione perché c'è la posizione regolare da parte di Antoniozzi che si allunga troppo la sfera e con Maggi questi errori non li puoi fare perché Maggi poi rimane anche contuso si arrabbia con il suo avversario Reo di averlo colpito Reo di averlo colpito con un take prevedente la dinamica è stata questa avete visto Antoniozzi si è allungato un po' troppo la palla per me il take è scivolato da parte di Maggi si vede che in quel momento non ha tolto il piede Maggi se l'è preso un po' cose che capitano comunque Antoniozzi poi tra l'altro non replica alle provocazioni dell'avversario torniamo comunque alla partita giocata che è quella che importa di più in pienissimo recupero un minuto e mezzo al termine rinvio lontano di Arcece adesso Montini che riesce a difendersi anche da un fallo da dietro Montini rimane piede Montini entra in area calcio di punizione ha subito almeno due brutti falli in una decina di metri Montini inevitabile il cartellino giallo per c'è Maggini che protesta con l'arbitro ma non credo sia Maggini l'autore di questo fallo da giallo Maggini anzi ancora Maggini ha il suo bel da fare con Antoniozzi stanno ancora cercando di chiarire lo scontro precedente non abbiamo capito chi è stato l'amonito della gara comunque poco importa perché qui conta adesso soltanto il risultato e vedere come arriveremo al fisco finale è chiaro che questa punizione dal limite è molto molto invitante soprattutto per uno specialista come Berloni che questa sera tra calci d'angolo calci di punizione e il rigore del momentano 2 a 0 ha battuto una quantità industriale di calci da fermo attenzione perché c'è anche il mancino di Pippo Alessandrini volendo che però sembra abbandonare l'idea quindi sarà Berloni contro Rondina questo calcio di punizione dal limite dell'ex fantasista del Real Metauro fermo ormai da due stagioni classe 92 uno degli under più interessanti dell'escellenza di tre anni fa in cui il Real Metauro fu grande protagonista prima di una clamorosa retrocessione con 45 punti parte Berloni a giro si distende Rondina alla sua sinistra e sventa questa parabola velenosa di Berloni ci sarà comunque un calcio d'angolo ben venga perché comunque tanto tanto ossigeno per la formazione in maglianera che adesso si deve difendere vedete che l'ipifenile sta tenendo di fatto quattro uomini fissi nel proprio reparto offensivo pronti eventualmente a raccogliere una palla vacante che potrebbe arrivare in questo momento perché la palla viene in maniera abbastanza sconsiderata regalata di fatto a Rondina Rondina che va a rinvio profondo il pallone che viene controllato in qualche modo da Busca Busca che viene subito pressato da Serafini rientrato nel mentre in campo Tomassini Tomassini a predestra in maniera sbagliata può intercettare Antoniozzi vediamo se questa è l'ultima tanto ancora Maggini che si fa valere nell'uno contro uno contro Galdenzi c'è però il colpo di testa da parte di Fontemaggi e dovremo essere ormai alle battute conclusive di questa sfida forse c'è tempo per un'ultima azione Ordonselli Ordonselli con una finta di corpo va a disorientare Berloni poi si ferma ritorna è probabilmente l'ultima occasione in favore dell'Epifenile attenzione questa spizzata il pallone è lungo per tutti anche se ci prova me Ivanini la lontana male però rimessa laterale in zona d'attacca in favore dell'Epifenile l'arbitro dice che si può giocare ancora il pallone è toccato per Divito Divito che lo catapulta in aria dove c'è Mei attenzione Pasquini la palla che danza pericolosamente lì arriva ancora Mei e su questa mischia finisce questa finalissima del terzo torneo CSI Summer Calcio a 11 un'aranze funebri Valentini batte la formazione della stazione di Epifenile per 2 a 1 ricordiamo anche le reti Berloni al quarantesimo del primo tempo scusate Tallevi al quarantesimo del primo tempo su corner battuta da Berloni di testa naturalmente il gol di testa poi lo stesso Berloni su rigore procurato da Tallevi al diciottesimo della ripresa appunto dagli 11 metri poi dopo nel finale è arrivato un autogol Beffardo che ha riaperto la gara ma che non è bastato alla formazione in maglia gialla per raddrizzare una partita compromessa di fatto nella ripresa tra pochissimi minuti le premiazioni sempre qua su Fano TV vi invitiamo a rimanere con noi come vi abbiamo anticipato durante la telecronaca siamo qua per le premiazioni del terzo torneo CSI Summer Calcio a 11 che è terminato poco fa l'avete visto con la vittoria di onoranza Funebri Valentini nei confronti di stazioni Pifenile allora andiamo subito alla premiazione e quindi iniziamo abbiamo qua la presenza tra l'altro del presidente onorario del CSI di Fano Gabriele Battistelli a premiare la formazione seconda classificata Daniele Sordoni il capitano con anche Fabio Busca a fargli compagnia complimenti alla stazione Pifenile squadra seconda classificata di questo terzo torneo CSI Summer Calcio a 11 eccoli qua foto e riprese di rito per la stazione Pifenile che esce a testa altissima comunque sia da questa competizione e che porta a casa anche un premio individuale perché come abbiamo anticipato già più volte in telecronaca il titolo di capo canoniere con sette centri va ad Alessandro Ricci proprio della stazione Pifenile che viene premiato da Francesco Paoloni anche Gabriele Battistelli appunto del CSI di Fano intanto eccolo qua andiamo a premiare Alessandro Ricci complimenti a lui benissimo e dunque adesso è il momento della squadra prima classificata vince il terzo torneo CSI Summer Calcio a 11 qua al Vallato di Fano in pianto Vittorio del Curto la formazione di Valentini onoranze funebri eccoli qua con il capitano Andrea Valentini a ritirare il premio dalle mani di Gabriele Battistelli ecco qua dunque complimenti alla formazione in maglia nera delle onoranze funebri Valentini ecco qua l'alzata della Coppa di Rito dunque nel mentre che giustamente i ragazzi di maglia nera festeggiano io ringrazio ovviamente il CSI di Fano a nome del CSI di Fano ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte per l'organizzazione di questa quasi 20 giorni di torneo soprattutto i due main sponsor BCC di Fano e Bonbon Gelateria e anche da non dimenticare la preziosissima collaborazione del CSI del Fino Fano che è la società che gestisce questo impianto che come tutti gli anni con grande disponibilità lo ha messo appunto a disposizione da parte mia Alessandro Mokorovic grazie mille per essere stati con noi ci rivedremo sicuramente sempre qua il prossimo anno per l'edizione 2016 che sarà la quarta buonasera a tutti voi grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori